Coraggio, raccogliete quella banconota, andate a comprarci qualcosa! Siamo ricchi! Siamo benestanti! Siamo fortunati! Siamo pacotosi! Siamo donarosi! Siamo bienti! Siamo... Aspetta, adesso dovremmo lasciare la città! Perché? Perché ne vorranno tutti una parte! Ma chi? Tutti quanti! Guarda come hanno già messo gli occhi sui miei saldi! Gumball, tu sei cambiato! No, sono lo stesso, ma sono più felice perché sono ricco! Ma guardati, sei circondato dalla ricchezza della natura, eppure di essere l'uomo più solo del mondo! Hai ragione! Il denaro è diabolico! Adesso guarda che cosa ne faccio! Hai sentito? Ci sarà un combattimento! Per questo ho portato il popcorn! Sai chi si batterà? Non lo so! Tu immagina se fossero T-Rex e Robot! Se così fosse, poi potrei anche buttarvi agli occhi perché avrei visto veramente tutto! Davvero? Che ne dici? Di palloncino contro William! Sì, ma sarebbe meglio se fossero in una gabbia, con le punte e in fiamme! Non vedo l'ora di scoprire chi siano! Lotta! 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 Ecco, ma guardali! Stanno per battersi come degli animali! Invece non ti concentri su qualcuno che ha davvero bisogno! Shhh! Stanno per iniziare! Darwin, che stiamo facendo? Una stupidaggine spinti dalla pressione! Diamo loro anche delle armi? In che modo possiamo uscirne? Ho avuto un'idea! Popolo di Elmore! Voi siete venuti a vedere un combattimento e fino a qualche secondo fa io ero proprio come voi! Ma adesso, sapendo di poter essere picchiato, ho scoperto una cosa! Battersi è sbagliato! Non è questo il modo di risolvere le dispute! Perché pensateci, che cos'è più potente? Questo! Oppure questo! Lucy, che succede? Parla! Non è certo quello che avevo progettato! Non dirmi che avevi organizzato tu quel combattimento! Ma non è possibile! Ah! Grazie! 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 Grazie!